Bene, in questo video parlerò di una meditazione molto potente, una meditazione per attivare il salto quantico stimolando i chakra. Che cos'è il salto quantico? Il salto quantico è un salto qualitativo nella nostra vita, è un salto che ci permette una discontinuità, una discontinuità per poter realizzare ciò che non pensavamo di fare, per poter entrare in un mondo diverso da quello in cui siamo abituati a vivere, un mondo che ci permetta di essere più felici, di scegliere nel multiverso, nei tanti mondi che ci sono a disposizione, quello che veramente possa darci l'appargamento per uno sviluppo superiore. Perché si utilizzano i chakra? I chakra sono dei punti, l'essere umano è energia, questo l'hanno capito da non molti anni diciamo i fisici quantistici, l'avevano capito da millenni gli yogi, gli induisti, l'essere umano è fatto soltanto di energia e questa energia ha dei nodi, dei punti nevralgici, questi punti nevralgici si chiamano chakra, ma ce ne sono moltissimi nel corpo umano, ad esempio i punti dell'agopuntura, alcuni punti dello shatsu, i chakra sono tutti punti dei nodi energetici dove interagiamo direttamente con l'energia dell'universo. Ecco quindi che andare a stimolare questi punti attraverso la meditazione che è una forma di allineamento delle onde cerebrali alle onde proprie del rilassamento e del cambiamento che sono le onde alfa e le onde teta. Bene, questa meditazione ci permetterà di fare un salto quantico per cercare di cambiare meglio, sviluppare meglio la nostra vita e per effettuare questa meditazione ti chiedo di metterti in una posizione comoda, tranquillo, in un ambiente tranquillo e ascoltare tranquillamente il suono della mia voce lasciando andare liberamente i tuoi pensieri. E adesso che ti sei messo in una posizione comoda, puoi renderti conto dell'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni, portare tranquillamente la tua attenzione mentale sulla colonna vertebrale, sulla tua colonna vertebrale mentre l'aria che respiri entra ed esce dai tuoi polmoni. E non so se ti stai rendendo conto che qualcosa dentro di te sta cambiando, mentre inspiri esce aria pura, limpida e quando espiri esce fuori un fumo nero, scuro, denso di tutte le scorie, di tutte le zavorre di cui ti vuoi, ti puoi e ti devi liberare. continuo ad ascoltare tranquillamente il suono della mia roscia portando la tua attenzione sulla spina dorsale e vai nel punto più basso della tua spina dorsale all'altezza del tuo osso sacro e ti chiedo di immaginare con la tua mente un vortice movimento di colore rosso molto intenso quasi tendente al marrone, un rosso scuro tendente al marrone che vibra, si muove un vortice di energia che ruota incessantemente porta la tua attenzione mentale su questo punto di energia, dagli ancora più forza, fallo ancora ruotare e senti che più porti l'attenzione su questo punto un serpente inizia a svegliarsi da un profondo retardo, un serpente fatto di luce e di energia che da quel punto inizia a srotolarsi, a riattivarsi e a salire verso l'alto dentro la tua colonna vertebrale un serpente di luce che sale all'interno della tua colonna vertebrale e via via che questo serpente sale porta tutta la sua energia, porta tutta la sua forza ai tuoi centri di energia permettendoti di fare un salto di qualità, un salto quantico e diventare ciò che non sei mai stato e questo raggio di luce e di energia, questo serpente che puoi visualizzare si ferma lungo la tua colonna vertebrale all'altezza dei tuoi genitali e anche qua puoi immaginare un vortice di energia che ruota incessantemente di colore fuoco, rosso fuoco come una fiamma che brucia incessantemente ruotando e più ruota, più la tua tensione mentale va su di lui e lo fa ruotare ancora di più, sempre di più permettendoti di fare questo salto e questo serpente entra completamente in simbiosi, in sintonia con questo vortice di energia ne assorbe l'energia e dona l'energia e mentre tutto questo succede tu continui a respirare tranquillamente lascia che questo serpente di luce salga ancora verso l'alto e si soffermi lungo la tua colonna vertebrale all'altezza del tuo ombelico e qui all'altezza del tuo ombelico puoi vedere un vortice di energia che ruota incessantemente, un vortice di colore arancio che ruota incessantemente e tu porti l'attenzione mentale su questo vortice di energia che ti permette di staccarti sempre di più dal mondo fisico per entrare nel mondo dell'energia per effettuare finalmente quel salto quantico e intanto cominci a delinearsi sempre di più dentro di te quello che è il tuo obiettivo l'obiettivo della tua vita e questo serpente di luce continua a salire ma salire sempre più in alto fino a fermarsi all'altezza del tuo cuore fino a fermarsi all'altezza del tuo cuore e all'altezza del tuo cuore si carica ancora di più di forza, di potenza e spinge il tuo corpo energetico sempre più in alto sempre più verso uno stato di purezza e si carica di luce gialla la luce gialla del sole tutto il sole entra dentro il tuo cuore non c'è distanza non c'è differenza tra te e il sole siete esattamente la stessa cosa la mente continua ad ascoltare il suono della mia voce e respiri il serpente di luce sale ancora verso l'alto fino ad arrivare all'altezza della tua gola all'altezza della tua gola e qui il serpente si carica di una luce molto potente una luce blu intenso e questa luce ti permette di comunicare con il mondo intero acquisirei le capacità comunicative potrai entrare in sintonia col mondo intero facendo quel salto quantico che hai sempre desiderato e mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respiri il serpente sale ancora verso l'alto e arriva fino al centro dei tuoi occhi alla radice del tuo naso e puoi iniziare a vedere delle cose che non hai mai visto delle immagini mentali affolleranno la tua mente e ti permetteranno di vedere il mondo per quello che è per le energie che lo costituiscono e potrai vedere attraverso un centro un vortice di energia di colore azzurro azzurro come il cielo che pervade te stesso e mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce respiri il serpente sale ancora verso l'alto fino ad arrivare alla sommità del tuo capo e qui una fontanella di luce di tutti i colori inizia a sgorgare dalla cima del tuo capo e a diffondersi dentro te stesso caricando completamente di energia nuova pura il serpente e lascia che a questo punto il tuo sogno diventi veramente realtà e vada ad essere nutrito dall'energia del serpente questo serpente che può mordere il tuo sogno trasferendogli tutta l'energia che hai a disposizione il tuo sogno sta per diventare realtà adesso tranquillamente goditi qualche istante di tranquillità poi fai tre profondi respiri ispirando dal naso trattenendo l'aria ad alcuni istanti e ispirandola fuori lungamente fino in fondo con la bocca e quando è finito questi tre respiri ispirando l'aria dal naso trattenendola ad alcuni istanti e ispirandola fuori fortemente fino in fondo con la bocca sentirai dentro di te l'energia del serpente l'energia della luce e tu sei diventato luce hai fatto quel salto quantico che hai sempre desiderato fare a questo punto puoi rapire gli occhi ti sentirai bene, tranquillo, rilassato pronto al grande cambiamento della tua vita che cambierà in meglio e secondo le tue necessità e tutto ciò che è veramente buono e giusto per te lo ottieni, lo diventi e lo realizi bene, abbiamo finito questa meditazione che è molto potente e va fatta 3 volte al giorno per 21 giorni consecutivi bene, vi do appuntamento al prossimo video e vi invito a seguirmi anche sul blog www.http.com ciao a tutti